Il corso dal titolo Piano Rigenerazione Scuola nel Curricolo di Scienze Naturali nel secondo ciclo ha come scopo di raccordare gli obiettivi del Piano Rigenerazione Scuola con il PECUP di Scienze Naturali del secondo ciclo. Il corso si propone di dare informazioni e suggerimenti sugli obiettivi del Piano Rigenerazione Scuola che possano raccordarsi ai traguardi formativi delle scienze naturali e inoltre di presentare proposte di percorsi che potranno essere utili per una progettazione educativa o didattica indirizzata a educare e a responsabilizzare le nuove generazioni verso comportamenti e scelte di vita ecosostenibili. Una sezione del corso sarà dedicata a esempi di unità di apprendimento a partire dalla progettazione alle fasi per la sua realizzazione e alla valutazione sia di processo e sia di prodotto.